Ciao a tutti, nel video di oggi, Leo porta un giochino alla piccola Vitto e si divertono a giocare insieme. In serata, si rilassa con papà provando i filtri di Instagram. Nel frattempo, Chiara ci parla del Museo Egizio. Vi lascio al video, buona visione. C'è un amico in me. C'è un amico in me, amore, sì. E io non farei. Perché se siamo abbruditi i copini. Grazie che c'è un vero amico in. In più. Come in più in me, amore. Ciao, Leone. Come stai, Leone? E vai a provare anche a me? E in te? Oh, sei stigui, amore. Lo stai commentando questo. Lo devo dire, ma... Dov'è che è, amore, questo? Guarda un po'. Si cede uno vuoto. Guarda cosa ti ha portato, Leo. Oh, il tuo robottino. Come ti chiami, faccia di merda? Ma non era così il Sergente Hartman. Come ti chiami, faccia di merda? Ciao ragazzi, oggi pomeriggio siamo stati al Museo Egizio. Io c'ero stata una sola volta quando avevo sei anni con la mia famiglia e avevo voglia di tornare e portarci Leo, ma soprattutto di fare il reel con la canzone. Leo si è super divertito perché avevamo una guida che ci ha raccontato tutta la storia dell'antico Egitto, molto a prova di bambino. Quindi mi è piaciuto tantissimo e poi c'era anche questa stanza all'ingresso proprio per i bambini in cui si può giocare a fare gli esploratori, scavare nella sabbia, seguire il fiume Nilo. Veramente, veramente bellissimo. E niente, ci siamo super divertiti. Ora vi metto qualche filmato. Wow, guys. Thank you so much Dom Perignon for sending me this amazing gift box with the new Dom Perignon for Lady Gaga Rosé Limited Edition. It looks so, so precious. I cannot wait to try it. Wearing this super soft cashmere sweater from Falconeri today. Love it so much. Posso credere raga, non ci posso credere. La Ferragni è venuta al Museo Egizio e mi son dovuto fermare, stavo guidando, mi avete mandato un sacco di messaggi. È ufficiale? Torino, Torino è ufficiale, raga, ce l'abbiamo. È incredibile. Please, Verragni, come to visit Museo Egizio, cause we won't be famous like Uffizi. Wanna guard? Isangolo, Torino, Torino. No. 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 Grazie per la visione!